Buonasera, buonasera a tutti, ma soprattutto a te, dal vostro Enrico Capaci. Oggi è lunedì 10 agosto. Benvenuti in un nuovo video. Dio esiste o non esiste? È questo il problema. Dio esiste oppure no? Ve la dico io la verità, ve la dico io la realtà. C'è soltanto una cosa importante, fondamentale da dire, ed è questa. Se Dio esiste, si chiama Satana. Se Dio esiste, il suo nome è Satana. Se per Satana ovviamente si intende un qualcuno o un qualcosa di crudele e di malvagio. Perché se Dio esistesse, non è quello buono e amorevole di cui vi hanno sempre parlato. Se Dio esistesse, non può nient'altro che essere un Dio cattivo, malvagio, perfido, crudele, spietato, sadico. E adesso vi spiego il perché. Perché Mr. Nichilista vi spiega il perché delle cose. Non trae conclusioni senza spiegare la realtà. Allora, cosa succede un bel giorno di tanto tempo fa? Cosa succede? Dio si sveglia una mattina e decide di metterci al mondo, di farci nascere. E perché lo fa? Lo fa per sua volontà, perché lo vuole lui e perché ci ama. Ci ama così tanto che decide di darci questa possibilità, l'opportunità di vivere. Quindi, noi siamo nati per sua volontà e perché ci ama. E quindi ci dà il dono della vita, il regalo della vita. Però mi sorge una domanda, un interrogativo. Ma noi abbiamo chiesto di nascere? Noi l'abbiamo chiesto questo dono? Perché è importante capirlo. No, non l'abbiamo chiesto. È una sua iniziativa. Una sua libera iniziativa. Allora, Dio è così dannatamente arrogante, che pensa che tutte le sue creature, umane, ma anche la stessa cosa gli altri animali, tutte le sue creature gradiranno questo dono. È un po' arrogante, perché è un dono richiesto. È una sua decisione. Le creature si trovano in vita e, secondo lui, tutti devono per forza gradire e quindi essere grati di questo dono. Un po' di arroganza c'è. Ma lasciamo perdere. Analizziamolo, questo dono. Magari è talmente bello e meraviglioso, che è ovvio che tutti ne saranno contenti. Che cos'è la vita? Allora, la vita è questo. Parliamo dei mammiferi. Si nasce dalla pancia della mamma, e quindi si viene al mondo. Ci sono quindi questi piccoli cuccioli di animali, o cuccioli di bebè, nel caso degli umani. E questi cuccioli, nel caso degli esseri umani, vengono amati e cresciuti dalla mamma e dal papà. Ma non per tutti è così. Perché alcuni vengono in anzitempo abbandonati nei bidoni dell'immondizia e muoiono lì. Alcuni vengono abbandonati per strada e finiscono in migliorfanotrofine. Alcuni vengono seviziati e stuprati dalla mamma o dal papà, o da altri parenti, o da sconosciuti. Alcuni, ancor meno fortunati, vengono sgozzati dalla mamma, vengono squartati, accoltellati e muoiono. Oppure, andando lontano, in realtà non qui vicine, alcuni pargoletti nascono e già dopo poche ore di vita si trovano sotto le bombe, sotto devastazioni, in mezzo alla guerra. E quindi muoiono già, dopo qualche giorno, dopo qualche settimana, da bambini. Alcuni muoiono di fame, già da bambini. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma che c'è da tutto questo con Dio? Questa è la crudeltà dell'uomo, l'oscenità di quello che è l'uomo. Certo, è vero, ma c'è un piccolo particolare. Questo uomo, chi l'ha fatto? L'ha fatto Dio. Quindi forse gli è venuto un po' male, poteva farlo un po' meglio. Tra l'altro l'ha fatto a sue immagini somiglianze. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Alcuni hanno un destino più rosio, più fortunati. I più fortunati crescono, diventano bambini, preadolescenti, adolescenti. A un certo punto, siccome la mamma e il papà non ci saranno sempre ad accudirti, devi trovare il modo per sopravvivere da soli. E questo vale per noi umani, ma per tutti gli altri animali. Nel caso degli animali la lotta è spietata, ci si mangia a vicenda. La zebra, il cucciolo di zebra appena nato, la zebra l'ha creata Dio, il cucciolo di zebra appena nato deve scappare dal leone, che altrimenti la zanna al collo, lo soffoca e poi se lo mangia. D'altro canto però, se quel leone non la zanna la zebra, muore il leone, muore di fame. E muoiono i suoi cuccioli, perché i leoni appena nati che cosa mangiano? Hanno bisogno di cibo. Quindi una lotta spietata in cui ci si mangia a vicenda. Le cuccioli che si trovano lì, Dio li ha messi al mondo, piccolini, devono scappare a dei denti spietati di un leone che, poverino, non può morire di fame perché deve sfamare a sua volta degli altri cuccioli. Questo l'ha voluto Dio. Che Dio buono, un po' sadico è. Gli esseri umani in epoca primitiva non era poi così diverso, abbastanza spietata la lotta in natura. Passa il tempo, nascono le società, oggigiorno la lotta è un po' meno spietata, almeno non è così cruenta. Però è sempre una fatica. Per molti è una grandissima fatica. Altri sono figli di papà, o magari hanno più fortuna, e le cose vanno un po' meglio. Però per molti è una fatica sopravvivere. Si deve lottare tutta la vita per sopravvivere, perché altrimenti non si ha la possibilità di vivere, perché non si campa ad aria. E Dio non ti ha fornito un'autoalimentazione automatica. Devi cercartela tu, la possibilità di sopravvivere. Nel frattempo passano gli anni, ti affezionano delle persone, ti muoiono i nonni, si ammalano i tuoi genitori, invecchiano sempre più, si ammalano così tanto che a un certo punto si dimenticano di te, perdono la memoria, non camminano più, non parlano più. I tuoi genitori, abituato a essere tu da piccolo, che c'è da loro, devi accudirli. Non sono più loro, diventano dei vegetali. Nel frattempo muoiono, poi invecchi tu. Magari hai passato 40 anni di vita con dei cari, una moglie, una fidanzata, fidanzata, lei inizia a non ricordarsi più di te. Oppure muore, ti ritrovi da solo, il tuo corpo sempre più invecchiato, ti ingobbisce, ti cadono i denti, il passato è soltanto un ricordo, dolori, ti ammali sempre più frequentemente, e poi arrivi alla morte. Per alcuni è immediata, non c'è se ne accorge nemmeno, per altri agonie di anni. Poi in generale il percorso di vita varia, alcuni più fortunati e alcuni meno. Poi muori e scompari. Dov'è il dono? Cioè tu nasci, dono di Dio, cresci, devi lottare per sopravvivere, certo in mezzo anche cose belle, emozioni, sicuramente sì, poi invecchi, deperisci, ti imbruttisci e muori. Che bel dono. Ah, giusto, non finisce mica qui. Noi non siamo soltanto corpo, siamo anche anima. Quindi poi c'è il paradiso. Ah, ecco, allora è veramente un dono, altrimenti Dio sarebbe cattivo se tutto finisse qui. C'è il paradiso, e in paradiso la nostra anima rimarrà sempre giovane, riabbracciare i nostri cari, e conosceremo anche questo nostro eroe che ci ha messo al mondo, Dio, lo potremo abbracciare e conoscere di persona. Però mi solge un'altra domanda a questo punto. Ma allora perché questi 40, 30, in alcuni casi due giorni di vita, in altri casi 80 anni di vita per poi andare in paradiso? Il dono non poteva consistere direttamente farci nascere in paradiso. Perché prima questo percorso? Se poi si muore e si finisce in paradiso, poteva metterci direttamente in paradiso. Ah, dimenticavo, perché il paradiso va meritato. Soltanto i buoni cristiani, soltanto quelli che seguono le sue regole vanno in paradiso. Bisogna meritarselo. Devi comportarti come vuole lui. Ma la faccia che è Dio buono. Cioè tu ti trovi al mondo, non perché l'hai chiesto, perché se l'avessi chiesto e sapevi cosa comportava la vita, le cose sarebbero diverse. L'hai voluto tu. Tu ti trovi in vita. Noi ci troviamo vivi, non è che l'abbiamo scelto un giorno. Ci troviamo vivi, ci troviamo bambini, ci troviamo adolescenti, quindi siamo qui perché l'ha voluto lui. E siccome siamo qui per questo suo dono, dobbiamo seguire le sue regole per poter andare in paradiso ad essere salvati e riabbracciare i nostri cari. Altrimenti andremo all'inferno. Questo è un Dio spietato. Qualcuno potrebbe dire no, non è spietato, perché comunque sei libero arbitrio. Tu sei libero di seguire le sue regole oppure no. Vabbè, bella scelta. Se tu segui le sue regole, salvezza, paradiso, tutto bello. Se non le segui, inferno, dannato per l'eternità. Che scelta è? È un ricatto, una minaccia. Quindi lui, l'ha voluto lui, ti fa nascere, devi seguire le sue regole e altrimenti sei dannato per l'eternità. Questo non è un Dio buono, non è un Dio amorevole. È un Dio perfido, sadico, perché questo è un gioco molto perverso. È anche un Dio molto narciso, molto egocentrico, perché addirittura vuole che tu lo ringrazi ogni giorno, che preghi per lui. Immaginatevi questo Dio in cielo, miliardi di persone che devono stare lì, pensare a lui. E dimenticavo che le persone appena nate devono anche, non appena nate, ma nel corso della vita devono pentirsi, pentirsi. Cioè, tu ti trovi in vita, non perché l'hai chiesto, ma perché l'ha voluto lui e come prima cosa, sempre, nel corso della vita, devi pentirti. Penti delle cose che fai tu, se non piacciono a lui, addirittura devi pentirti, anche se non hai fatto nulla di male, di quello che ha fatto Adamo ed Eva tanto tempo fa, il peccato originario. Quindi tu, poveretto, ti trovi lì, in questa terra, così, all'improvviso, ti trovi e devi pentirti già. Ma di cosa ci dobbiamo pentire? Non faceva prima non farci nascere? Se poi noi dobbiamo pentirsi, seguire le sue regole. È un Dio assolutamente egoista, è un Dio perfido, è un Dio sadico, è un Dio che si diverte così, si diverte a a vedere giocare le proprie creature. Tutto qui. Sicuramente ho dimenticato qualcosa. Volevo proprio darvi soltanto un quadro sintetico di quello che è questo Dio se esistesse, di quella che è questa divinità se esistesse. Dov'è la bontà? Dov'è l'amore? Dov'è la misericordia? Dov'è? Spiegatemi nei commenti dov'è. Ovviamente, ovviamente, la risposta è molto semplice. Questa è tutta una fantasia. Dio non esiste.